Il Ticino è noto per i suoi panorami mozzafiato, i suoi grotti, i suoi laghi e i fiumi cristallini, ma soprattutto è terra di vigorosi e brillanti ginnasti. Ehi ragazzi, non scherziamo, sono finite le vacanze. Il G-Motion 2022 si avvicina. Ok, così va meglio. Allora vi aspettiamo numerosi l'8 gennaio all'Allen Stadium di Zurigo per G-Motion 2022. Feel the rhythm.